Inizia il consiglio comunale di Taranto, eccezionalmente si tiene in provincia e come al solito ovviamente il sindaco Melucci è completamente assente, cosa grave perché è un consiglio monotematico relativo alla miti di colpura. Quindi l'ennesima assenza, guardate, il posto del sindaco è vacante, si vede Manzulli, vice sindaco, ma il posto del sindaco è vuoto, l'ennesima assenza. E allora Massimo Battista, l'ennesima assenza che direi? Siamo alle soldi, un consiglio monotematico, un argomento di fondamentale importanza del sindaco in cui una volta è assente, ingiustificata. Adesso ci dirà che molto probabilmente sarà impegnato come sempre, però oggi avremmo voluto che desse spiegazione a un tema fondamentale per i miti di colpura e ancora una volta il sindaco risulta assente. Vediamo in fase dibattimentale cosa racconterà questa amministrazione. Vi aggiorneremo nel corso della seduta appunto degli sviluppi. Per ora il sindaco è assente, il sindaco politicamente fantasma. Sono presenti vari rappresentanti del mondo della miti di colpura e lui non c'è, il grande assente. Una forma di disprezzo verso le problematiche di questa categoria.